Ci hanno riportati a Taranzo, col caccia torpedinere, siamo sbarcati su una passerella di legno lunga e strada facendo si sentiva dire via via questi sono inglesi, sono prigionieri inglesi. Cosa è successo? Che mi è capitato un amico, Rossetti Angelo, del mio paese che era di Marina, era proprio là. Quando mi ha visto mi ha detto Angelo mi ha chiamato via 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 e lui mi ha chiamato e è venuto là e mi ha detto cosa è successo e gli ho detto siamo stati affondati ma l'hanno fatto andare via. Ci hanno portato in ospedale lì a Taranzo e ci hanno tenuto due giorni. Mi ricordo, come adesso, che i tedeschi quattro, noi 28 su quel coro lì, dopo sugli altri non so, noi siamo arrivati in 28, più 4 tedeschi, ma i tedeschi avevano ancora il fucile. Sono andati dal mare ma sono andati col fucile. E' la prima roba in ospedale che hanno fatto, si hanno messo il fucile sopra il letto, sono messi a pulire il fucile. Grazie. 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 Grazie.